Questa è la medaglia d'oro di Scampia. Oggi ci sono dei ragazzi qui che hanno preso medaglie molto forti. Abbiamo preso medaglie agli europei, una campionessa d'Europa, un campione mondiale di kickbox, tutti che vengono da Scampia e sono di Scampia. L'eccellenza napoletana, addirittura proposti per Tokyo 2020. Ci sono due atleti che fanno parte del progetto CONI Tokyo 2020. Questo non è altro che un onore per i napoletani. Infatti, se vedete la maglietta che ho addosso, sono orgoglioso di essere napoletano. Premiazione degli atleti e plauso per l'attività della palestra di Gianni Maddaloni a Scampia, questa mattina a Palazzo San Giacomo, dove il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha consegnato medaglie ricordo agli sportivi che recentemente hanno vinto numerosi campionati internazionali. I premiati sono Luigi Brudetti, di 20 anni, giudoca che ha vinto tre titoli in Italia e una Coppa Europa, Martina Esposito, giudoca di 17 anni, campionessa europea 2018, vice campionessa europea 2017 e tre volte campionessa d'Italia, Giovanna Fusco, 18 anni, giudoca terza ai mondiali di Santiago del Cile e vice campionessa d'Europa, oltre che campionessa d'Italia, Susi Scuotto, 17 anni, giudoca campionessa d'Italia 2018 e bronzo agli europei in Russia, e Francesco Iaconangelo, 24 anni, campione italiano 2018 di kickboxing. Premiamo spesso ragazze e ragazzi di Napoli che sono il nostro orgoglio, in tutte le discipline sportive, le più variegate, di tutti i quartieri, devo dire molti di periferia. segno che la nostra città è ricca di talenti e il nostro compito è essere cacciatori di talenti.